Ed eccoci di nuovo in diretta sulle fonti tv per la maratona donne e lavoro. Mi ha raggiunto nel frattempo Gabriele Ventura che saluto. Ciao Federica e un saluto anche ai nostri telespettatori. Insieme faremo il punto sulle quote rosa nei principali studi legali d'affari in Italia e sulle principali novità e sui passaggi di carriera al femminile avvenuti nel corso del 2021. Ecco siamo giunti infatti al secondo anno sia di questo importante maratona, di questo importante appuntamento di Le Fonti TV ma siamo giunti anche al secondo anno del nostro osservatorio. In questi 12 mesi abbiamo monitorato il mercato legale, i principali passaggi di carriera ma in generale quello che è accaduto e che è riguardato da vicino le donne avvocato. Per cui direi cominciamo la nostra analisi per vedere se effettivamente in questi 12 mesi le cose sono cominciate a cambiare. Ed andiamo ad analizzare il totale degli iscritti attraverso la prima slide dei dati dell'ordine delle avvocati di Milano emersi durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022. Ecco sulla base dei dati trasmessi vediamo che dal 2014 il numero delle donne iscritte ha superato nettamente quello degli uomini quindi questo dimostra che è una professione sempre più avvocazione femminile. Ecco nel 2001 54,6% degli iscritti all'ordine erano uomini contro un 45% di donne. Poi questa cifra si è ribaltata nel corso degli anni successivi ed è cresciuta la quota di iscrizioni da parte delle donne è cresciuta fino al sorpasso nel 2014 quando il 51,6% degli iscritti è donna e il 48,4% uomo. Ecco e possiamo passare anche al cartello grafico successivo che è sempre tratto dai dati che sono emersi nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario dell'ordine degli avvocati di Milano quindi gli ultimi disponibili al momento e che rafforzano proprio quello che dicevi tu Federica nel senso che è un trend che va avanti ormai da 20 anni quello della femminilizzazione della professione forense e infatti le donne avvocato sono superiori agli uomini in percentuale fino alla fascia di età dei 50 anni mentre la fascia di età successiva 51,60 e via dicendo è ancora appannaggio dei professionisti uomini questo vuol dire che è un trend che è iniziato appunto 20 anni fa e che piano piano sta andando avanti. Poi appunto altri interessanti dati sono emersi ed emergeranno anche nel corso dei dibattiti di questa maratona con le istituzioni dell'avvocatura che abbiamo chiamato e contattato per darci conto insomma delle difficoltà che stanno affrontando le donne avvocato soprattutto anche in questa fase di pandemia in cui le cancellazioni dall'albo hanno riguardato soprattutto le donne ma ecco nel nostro monitoraggio un ruolo importante ce l'hanno anche proprio gli studi legali d'affari in questi 12 mesi anche lì abbiamo monitorato i più importanti studi legali d'affari se hanno implementato oltre che a parole anche nei fatti delle politiche per le donne avvocato. Ecco come hai anticipato tu prima con il nostro osservatorio D&I che portiamo avanti ormai da un anno nato proprio in occasione della prima edizione della maratona Donne il lavoro e anche grazie ai dati raccolti dal centro studi di Le Fonti Legal abbiamo appunto monitorato mese per mese l'equaterosa degli studi legali in Italia con più di 30 partner. Ecco come possiamo vedere dalla tabella che un po' raffigura la situazione dei soci donna sul totale dei soci per ogni studio, questi sono studi, sono stati selezionati gli studi con più di 30 partner. Ecco se andiamo a vedere la variazione percentuale rispetto al 2021 in riferimento appunto alle quote rosa vediamo che c'è una variazione dello 0,6% quindi una variazione Gabriele abbastanza irrisoria non arriva neanche all'1% quindi insomma la situazione in realtà non sembra affatto cambiata. No purtroppo no, la vediamo diciamo vediamo il bicchiere mezzo vuoto perché appunto non è cambiato praticamente nulla nonostante le politiche degli studi legali d'affari in termini di diversity insomma gli studi le stiano effettivamente portando avanti con convegni e con dipartimenti ad hoc ma poi le promozioni e i nuovi ingressi di punta riguardano soprattutto gli uomini e da dire anche che comunque le occasioni ci sono state nel corso del 2021 abbiamo assistito a diversi cambi di governance che hanno riguardato dei grandissimi studi legali d'affari che li hanno annunciati appunto come delle rivoluzioni ma che poi lato nostro quindi lato quello che noi monitoriamo lato dei diversity non hanno cambiato nulla di fatto le posizioni di vertice sono sempre rimaste in mano agli uomini. Esatto quindi diciamo dei cambi a parole e basta. Facendo proprio degli esempi concreti pensiamo al studio Chiomenti che ha parlato di rivoluzione nella governance in realtà questa rivoluzione se così si può chiamare ha coinvolto solo due donne una è Giulia Battaglia nel comitato strategico e l'altra è Patrizia Liguti nel comitato remunerazioni. Ecco per il resto in Chiomenti i vertici restano ancora rappresentati dal genere maschile. non è una situazione così tanto differente quella in DLA Piper che ha istituito una nuova governance dove addirittura non compare nemmeno una donna avvocato. Ecco l'unica Raffaella Quintana è alla guida di una delle sei aree strategiche trasversali ma di fatto diciamo ai vertici anche qua in DLA Piper non è cambiato nulla. Sì poi tra l'altro un altro caso emblematico ha riguardato lo studio legale NCTM se possiamo mandare in sovraimpressione la tabella di cui parlavamo con gli studi legali da fare la classifica. vediamo che NCTM è rimasto all'ultimo posto nonostante si sia diciamo abbia creato una partnership strategica vediamo esatto vediamo la classifica ADVANT NCTM all'ultimo posto con 72 soci totali e 6 donne quindi praticamente l'8% solamente di soci donne e vi racconto questo progetto che ha riguardato tre studi europei NCTM per l'Italia, Altana per la Francia e Beitenburkart per la Germania sperando che la pronuncia sia corretta quindi un totale di 140 soci, 600 professionisti e 13 sedi nel mondo per ADVANT NCTM quindi un progetto innovativo che si è nato a metà 2021 che si è posto l'obiettivo di scardinare un po' quello che è diciamo il mercato legale europeo. Sempre però lato nostro, lato diversity il progetto non ha coinvolto donne ai vertici il consiglio direttivo di ADVANT vede infatti la presenza di 6 uomini, 2 per ciascun paese e soprattutto abbiamo poi monitorato diciamo le promozioni e le nomine successive nei mesi in questo studio europeo e sono stati promossi 10 professionisti di cui 3 soci, tutti uomini quindi questo conferma del fatto che ADVANT NCTM come abbiamo visto occupa ancora all'ultimo posto. Adesso passiamo, c'è anche qualche buona notizia no Federica? Esatto esatto, diciamo ci sono state anche delle promozioni che hanno coinvolto le donne in questi 12 mesi e anche delle nuove realtà che comunque hanno visto delle donne a capo. Ecco tra i progetti di quest'ultimo anno segnaliamo per esempio la nascita di FGA Lex una boutique legale costituita in forma di società tra avvocati quindi già insomma di per sé abbastanza innovativa ma che soprattutto ha nominato come presidente una donna Camilla Cionini Visani e 10 soci di cui ben 6 donne quindi una realtà diciamo abbastanza particolare o comunque rara nel mercato legale ahimè mi verrebbe da dire un altro progetto appunto è quello di CBA con un nuovo team Green Economy affidato a una donna Milena Prisco anche Carbonetti e Associati ha investito nel diritto amministrativo aprendo un nuovo dipartimento con alla guida Loredana Gianni novità anche da Icchino Brugnatelli che ha aperto una nuova practice di diritto penale con alla guida Laura Panciroli e GTM Partners che ha investito anche lui nel dipartimento amministrativo affidandone alla guida come socio responsabile a Laura Sommaruga ancora andando avanti Portolano Cavallo ha dato il via al team automotive alla guida scusate il gioco di parole cioè Irene Picciano e poi alcune promozioni importanti che hanno riguardato Linklaters con Tessali che è diventata partner ricordiamo che Linklaters è una realtà particolare con Claudia Parzani tra l'altro ospite di questa importante maratona di Le Fonti TV che prima della nomina di Tessali era l'unica partner donna ed è appunto una delle più importanti figure per quello che riguarda il dibattito sulla diversity negli studi legali d'affari poi alcuni lateral hire come appunto si dice nel senso alcune fuoriuscite da studi importanti per altri studi che hanno riguardato donne Alberta Figari che è passata da Clifford Chance a Legans come equity partner Clifford Chance che ha perso una figura chiave anche per gli equilibri di genere all'interno della partnership in Italia e poi Barbara Ponte Corvo che è arrivata in Deloitte come responsabile dell'ufficio di Roma quindi un ruolo assolutamente di primo piano poi c'è il mondo in house il mondo in house che diciamo abbiamo avuto io ho avuto insomma l'onore di intervistare durante questa maratona donna e lavoro e da queste interviste è emerso che anche nel mondo dei giuristi di impresa la parità di genere insomma è un tema molto molto sentito e che ci sono comunque tutta una serie ancora di ostacoli alla carriera anche nel mondo in house ostacoli che risiedono principalmente nel gender pay gap quindi nella differenza salariale tra uomo e donna e anche nella mancanza di una cultura realtà orientata alla flessibilità e anche proprio a questo equilibrio tra la vita privata e professionale per le donne quindi grazie al nostro osservatorio e anche di nuovo al centro studi di Le Fonti Legal abbiamo monitorato anche le carriere che hanno riguardato le donne delle direzioni affari legali ecco tra questi passaggi più significativi possiamo citare Michela Costa che è la nuova General Council di Tecnogym Elisabetta Scosceria che è salita alla guida del gruppo Acea come gruppo appunto General Council Carola Lulli è stata nominata General Council di Sky Italia ecco in Sky Italia per 19 anni questo ruolo è stato ricoperto da un uomo quindi devo dire insomma una rottura con il passato anche insomma positiva per quanto riguarda la diversity parliamo anche di Alessandra Ferrari che è la nuova Group General Council di Ethos Energy che ha lasciato la direzione legale di A2A che però poi è passata a un'altra donna quindi qui c'è comunque continuità insomma per quanto riguarda le quote rosa e infine Cristina Cabella che è passata ad Unicredit lasciando appunto l'incarico in IBM Europe dopo più di 20 anni ecco quindi insomma di quote rosa ce ne sono però anche qua nel mondo dei giuristi di impresa c'è ancora tanto da fare ecco e noi appunto continueremo a monitorare anche nei prossimi 12 mesi e oltre il mercato legale dal punto di vista della diversity il nostro osservatorio andrà avanti nel suo lavoro sperando anche che dia qualche segnale in più all'interno degli studi legali d'affari e effettivamente speriamo tra un anno nel 2023 di dover commentare ben altri numeri esatto bene io ringrazio i telespettatori per averci seguito ringrazio anche te Gabriele grazie a te Federica e grazie ai nostri telespettatori bene restate con noi la maratona donne e lavoro va avanti grazie a tutti